Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, traffico sostenuto in direzione sud, in particolare tra Bivio 1 Variante e Bivio Complanare-Firenze Nord A11, tra Firenze Sud e Cisare Gello, tra Valdarno e Arezzo e tra Valdichia e Chiusi. In A11 code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e il Bivio Colla 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipili troviamo coda in uscita a Pisa Aeroporto per chi proviene da SCC Firenze-Rivorno e code a tratti tra Navacchio e Pisa Aeroporto in direzione di Pisa. Siamo al traffico urbano di Firenze, possibili disagi per soste irregolari segnalate in Viale Matteotti, Piazza di San Benedetto e Via Pisana. Guardi in Toscana Info è un servizio in collaborazione per la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!